gentili telespettatori buona giornata il giornale proprio quello che si chiama il giornale che è sempre stato della famiglia berlusconi viene venduto c'è l'accordo il 70 per cento va a una persona che ha già in mano tutti i giornali di centrodestra quindi diventa il pensiero unico del centrodestra quindi b p p b f srl e finanziaria tos invest hanno sottoscritto il preliminare accordo di acquisizione e vendita di azioni pari al 70 per cento delle quote societarie di s e e spa società editrice del giornale e della sua controllata il giornale online srl a renderlo noto è paolo berlusconi per p b f e giampaolo angelucci presidente di finanziaria tos invest l'esecuzione dell'operazione informa una nota in cui viene ufficializzato l'accordo è subordinata all'avveramento di condizioni sospensive d'uso in operazioni similari hanno supportato l'operato lo studio munarie partners di milano per la p b f lo studio di gravio avvocati per la tos invest la famiglia angelucci è già editore di libero ed è il tempo il quotidiano romano era passato dall'immobiliarista domenico bonifaci agli azionisti di tos invest nel 2016 in precedenza agli angelucci ha fatto capo oltre a libero anche il riformista poi ceduto con la proprietà del giornale la famiglia di imprenditori romani compatta sotto un'unica proprietà i maggiori quotidiani vicini al centrodestra non vedo libero quotidiano per esempio che è un altro di centrodestra antonio angelucci è da lungo tempo deputato per il centrodestra e attualmente come rappresentante della lega dopo le elezioni del settembre scorso in effetti se voi guardate il tempo è più meloniano libero è più leghista e qua si spiega perché il proprietario angelucci è attualmente rappresentante della lega da settembre pertanto se voi notate su libero ogni ogni settimana c'è scritto sondaggio x salvini vola salvini cresce salvini rivola salvini inarrestabile la lega senza sosta tutte le settimane tutte le settimane c'è scritto che la lega nei sondaggi vola poi andate a guardare i sondaggi e vedete che la lega è al di sotto della votazione delle politiche di settembre dell'anno scorso voi dite io ogni volta apro l'articolo la lega vola la lega è all'otto virgola cinque ma vola dove è cresciuta dello zero virgola due a e non capivo bene cioè ma perché libero insiste sulla lega che vola 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 ma vola dove e adesso ho capito vola perché il proprietario è è un leghista ma che te ridi c'è da ridere no fateci caso è aprite il giornale di angelucci aprite libero di angelucci in questa settimana e troverete la foto dove c'è salvini in estasi che ho scritto la lega vola voi in buona fede aprite l'articolo dice vola che cosa è successo cosa ha guadagnato no è sempre lì sempre per 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 libero la lega vola da da sei mesi e vola ed è sempre lì dice ma questo volo com'è è un volo con le ali ma non si alza in volo cioè vola per modo di dire è solo una foto vabbè insomma abbiamo ho capito il perché proprio leggendo leggendo questo articolo dove antonio angelucci è da lungo tempo deputato per il centrodestra attualmente rappresentante della lega quindi è un deputato della lega e proprietario di libero il tempo e adesso il giornale quindi i tre giornali più importanti del del centrodestra quindi si spiega anche il perché questi giornali spesso si contrappongono a quelli faziosi di sinistra cioè la stampa la repubblica il fatto quotidiano da una parte sono molto faziosi a sinistra e questi fanno la stessa cosa a destra e sembravano un blocco unico in effetti il proprietario è lo stesso ed è pure un leghista pertanto capite che le prime pagine dei giornali di questi di questi quotidiani tirano acqua ecco prima il giornale naturalmente di proprietà della famiglia berlusconi ogni giorno c'era l'articolo che parlava di berlusconi berlusconi ha detto berlusconi ha fatto berlusconi ha ridabadito berlusconi dice pensa fa sempre in prima pagina berlusconi sul giornale perché ovviamente era l'organo principale di di comunicazione del 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 partito oggi secondo me se si sono venduti l'organo di di propaganda di forza italia il giornale significa che realmente credo che la famiglia berlusconi non non stia più diciamo facendo dando fiducia al partito io credo che nella famiglia berlusconi si siano reso conti che si siano reso conti che resi conto che dopo che berlusconi non sarà più il capo politico del 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 di forza italia è un partito destinato secondo me a sparire forza italia magari mi sbaglio è ma credo che quando berlusconi lascerà la guida di forza italia questo questo partito andrà a sparire o diventerà un partito da 1 per cento poi lo chiuderanno quindi credo che la famiglia berlusconi abbia già visto abbia già visto lungo abbia già visto quello che sta per succedere quindi fa un passo un passo avanti vende il giornale dice tanto casa dobbiamo pubblicizzare ormai un partito che sta per sparire lasciamo perdere vendiamo incassiamo e dedichiamoci ad altro non abbiamo più bisogno di un giornale di propaganda anche se per una famiglia così potente quella di berlusconi e dei suoi eredi un giornale per scrivere quello che si vuole farebbe sempre comodo però probabilmente l'idea forse della dei figli è quella di un giorno fare esclusivamente solo gli imprenditori e non occuparsi più di politica perché hanno visto col padre che se ti occupi di politica ti arrivano addosso tutti cioè occuparti di politica non salva le tue imprese anzi ti mette in problemi ecco arrivederci a tutti e grazie